8 mesi senza calcio, ma senza anche vita, non solo calcio. Oggi la riapertura, c'è un po' di speranza. Finalmente oggi, 26 aprile 2021, riusciamo a ripartire con le nostre aerosport, in particolare con il mondo beach volley e tutto ciò che comprende il mondo del calcio a 5. È stato un po' duro, troppo duro, perché le persone sono abituate a giocare una volta alla settimana. Perde quasi tutto, anche le abitudini di muoversi, uno cerca di fare il fighting, fare il jogging o fare un po' di bici, ma comunque il calcetto è sempre il calcetto. Sono stati mesi lunghi, ma finalmente riusciamo veramente forse a ripartire con un'estate e col caldo che si avvicina sempre di più. Speriamo che rimarrà così e sia migliorata la vita. Questa è la respiranza di tutti i sportivi e i calciatori.